Plate nasce da una mia idea, visto che comunque in quel periodo c'era una condivisione anche di pensieri notevole con Ruggero, con l'azienda. Si parlava spesso anche di direzioni che l'azienda voleva prendere. La mia idea era quella comunque di creare una seduta mirata principalmente al project. Non toglie che si possa usare anche in alcune situazioni a casa, ma era mirata principalmente per il progetto. L'idea di Plate è molto semplice, una seduta modulare se vogliamo, con un giunto che ti permette comunque di creare più o meno qualsiasi tipo di tipologia di seduta imbottita, quindi potevi avere le quattro gambe, il quattro gambe col bracciolo, eccetera, eccetera, fino ad arrivare appunto alla versione lounge. E' sempre stato uno dei miei progetti preferiti. Questo prodotto qua l'hanno preso proprio diversi come riferimento. È fatto da Dio.